oggi per la serie in salute ci occupiamo di varianza di genere in età evolutiva in particolare parliamo di adolescenti transgender lo facciamo insieme alla dottoressa marina miscioscia ricercatrice in psicologia dinamica all'università di padua psicologa e psicoterapeuta dottoressa buongiorno e benvenuta buongiorno a tutte e a tutti inizio chiedendole di spiegarci cosa si intende per disforia incongruenza o varianza di genere si inizia subito con una domanda molto importante insomma a proposito del linguaggio nel senso che anche per ciò che riguarda il la scrittura diciamo di quelle che sono anche le ultime linee guida della VUPAT rispetto appunto a questo tema la decisione appunto di quali termini utilizzare è scaturita da un processo molto complesso attivo e che non era privo di controversie quindi diciamo che quando parliamo di questo tema per riferirci in maniera generale possiamo parlare appunto di transgender e varianza di genere o gender diverse perché rispetto a questo come dire ci sono state ci sono sempre discussioni che sono legate un po' rispetto a che termini utilizzare perché dobbiamo ecco stare attenti a evitare un'eccessiva enfasi diciamo solo sul termine transgender perché è importante integrare le identità e le esperienze di genere non binario riconoscere le possibili variazioni appunto della concezione di genere evitare termini per esempio che fanno riferimento a qualcosa che non è conforme che una per esempio una parola che spesso veniva utilizzare utilizzata è genere non conforme che quindi appunto non va bene ma al tempo stesso dobbiamo riconoscere anche una natura mutevole del linguaggio quindi incongruenza disforia varianza di genere non sono sinonimi fanno riferimento ad aspetti molto specifici e particolari e soprattutto oggi definiamo con questi termini degli elementi che potrebbero per esempio poter essere nei prossimi anni insomma anche definiti in maniera più specifica diciamo quindi quando vogliamo riferirci un pochino al tema in generale il tema per esempio transgender e gender diverse o gender la varianza di genere è diciamo una sorta un escamotage più inclusivo possibile in modo tale da evidenziare appunto diverse identità di genere espressioni esperienze e anche bisogni ecco quando parliamo di disforia di genere parliamo di una condizione specifica di sofferenza legata appunto al la possibile diciamo senso come dire di non accettazione o del proprio corpo o a sentimenti appunto di malessere legati a quello che l'incongruenza di genere può comportare non tutte però le persone transgender sperimentano disforia di genere quindi disforia corporea o disforia sociale quindi è qualcosa ed è un termine che può essere appunto utilizzato specificatamente insomma anche per descrivere la soggettività insomma è collegata a questo per alcune persone varianza di genere invece come dire è un termine un pochino più 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 ampio che ci permette appunto in un'ottica più inclusiva di descrivere come dicevo prima appunto integrare identità ed esperienze di genere appunto più più ampie e diverse con il termine incongruenza parliamo proprio di un elemento che riguarda il percepire una sorta ecco di incongruenza rispetto al genere assegnato alla nascita e il genere desiderato esperito appunto dalla dalla persona e quindi sono quelle situazioni dove questa incongruenza per esempio porta la persona a potersi definire in diversi modi tra cui appunto anche quella di persona transgender o gender variant o gender diverse dottoressa concentriamoci ora sull'età evolutiva che poi al centro del nostro approfondimento quali sono i principali bisogni dubbi le paure degli adolescenti che si rivolgono ai centri specializzati allora anche rispetto a questo direi che ci sono una molteplicità di bisogni che vengono insomma ecco richiesti insomma ecco sollevate lei fa riferimento giustamente un po' all'ambito ecco evolutivo i centri purtroppo non sono molti e sono in crescita per fortuna e però devo dire che la necessità diciamo che porta principalmente le persone a prendere i contatti appunto con i centri è proprio il desiderio di iniziare intraprendere un percorso appunto di transizione oppure meglio ancora di affermazione di genere sempre parlando appunto l'attenzione al linguaggio e quindi molto spesso ecco arrivano persone da noi che richiedono di poter intraprendere il percorso di affermazione di genere che ha diversi step diversi come dire momenti alcuni hanno molto chiaro perché vengono da un percorso anche di consapevolezza e di crescita personale che quella è la strada giusta quindi intraprendere il percorso di affermazione di genere eventualmente anche appunto con la terapia affermativa ormonale altre persone chiedono in qualche modo anche la possibilità di un confronto di un sostegno psicologico di un percorso appunto psicoterapeutico con persone che sono formate sul tema dell'identità sessuale che quindi come dire assicurino ecco uno spazio di confronto che sia libero che sia rispettoso dove in qualche modo ecco approfondire i temi legati alla propria identità sessuale generale ma appunto poi nello specifico l'identità di genere insomma ecco tutti questi questi aspetti il processo di sviluppo dell'identità di genere ma in generale appunto dell'identità sessuale e può essere come dire molto diverso da persona a persona quindi non tutte le persone transgender o gender diverse sperimentano le stesse cose quindi è importante come dire facilitare un percorso ecco di consapevolezza di esplorazione anche appunto di vissuti elementi insomma che rispettino tra l'altro poi il tempo di quella persona l'esperienza personale appunto di quella persona la progressione anche in qualche modo delle di alcune considerazioni più personali o all'interno del confronto appunto con con l'altro con il contesto e quindi diciamo molto spesso per la maggior parte del del delle volte le persone arrivano con un'idea già molto precisa voglio intraprendere appunto il percorso perché desidero avviare la terapia appunto ormonale affermativa e e quindi inizia ecco in qualche modo questo questo percorso altre volte invece ci sono dubbi ci sono come dire desideri ecco di approfondire tale tematica insomma nel proprio vissuto e quindi possono rivolgersi ecco a persone e professionisti competenti in questo in questo tema. Per studi recenti dottoressa ci dicono che sono sempre di più i giovani che si rivolgono alle cliniche eh giovani con identità non binarie cosa significa esattamente? Allora anche qui è un termine generico il termine non binario non binary che si riferisce a individui che vivono eh diciamo il loro genere al di fuori del binarismo eh maschio femmina quindi è un termine eh come dire che include persone il cui genere comprende più di un'identità di genere contemporaneamente o in diversi momenti come per esempio bigender eh che non hanno un'identità di genere o un'identità di genere neutra eh quindi anche qui uno spettro di possibilità ehm appunto però fuori dal binarismo eh uomo donna maschio femmina e ehm eh come dire definirsi come eh persone non binarie e ehm definirsi in una identità di genere a sé stante ehm è importante anche però sottovaluare come dire sottolineare che eh non riusciamo a dare un elenco esaustivo no? Nel senso che ci possono essere eh tante tante possibilità e che poi possono essere come dire mh possono rappresentare un significato poi specifico per quella persona ehm e quindi poi anche questo è un elemento che può ancora variare nel tempo insomma quindi è un termine che adesso insomma ecco definisce questa eh come dire questo spettro appunto di ehm possibilità fuori dal binarismo ma eh è sempre in evoluzione e mh lei giustamente eh dice che eh in qualche modo insomma sono sempre di più eh le le persone ehm non binarie ci sono diversi studi per esempio che suggeriscono che le persone non binarie sono circa tra il 25 e il 50% della popolazione transgender e e eh questa percentuale aumenta nel ehm gruppo per esempio di persone giovani quindi eh giovani hanno eh appunto una una percentuale più più alta ecco di chi si identifica appunto dentro eh lo spettro un po' del non binarismo. Quando si può pensare di eh procedere con il trattamento di affermazione di genere? Ne ha appunto già ha già fatto un piccolo riferimento lei la risposta precedente. A che età e come e quanto conta il la valutazione biopsicosociale? Tantissimo comincio subito da questo e assolutamente mh conta tantissimo eh la valutazione biopsicosociale e il lavorare eh soprattutto in un'equipe multidisciplinare. Questo sì è particolarmente vero sempre ma ancora di più in età evolutiva. Eh diciamo che eh appunto le professionisti che si occupano ecco di 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 questi temi e dei percorsi di affermazione di genere eh che lavorano con gli adolescenti eh devono in qualche modo ecco lavorare per facilitare l'esplorazione e l'espressione del genere in un modo aperto e rispettoso che come dire che non favorisca un particolare identità che si sviluppa ma appunto all'ascolto rispettoso della persona che abbiamo di fronte. Ehm come dire la valutazione biopsicosociale completa insomma ecco è assolutamente importante per poi ehm come dire eh intraprendere eh e la 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 decisione insomma ecco di ehm incominciare il percorso di affermazione come dire eh medicalizzato quindi con la 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 terapia affermativa. Ehm dentro questo processo diciamo si lavora eh con la famiglia con la scuola con gli altri ambienti che sono appunto pertinenti poi alla promozione dell'accettazione della diversità diciamo di di genere delle molteplicità insomma di espressioni comportamentali e identitarie dell'adolescente eh le persone professionisti ovviamente che si occupano di di questo tema devono avere una buona conoscenza ovviamente degli aspetti che riguardano il benessere e la salute mentale perché hm come dire ci deve essere una chiarezza una capacità per esempio dobbiamo valutare insomma la capacità eh della della persona che abbiamo di fronte anche di dare il consenso ai trattamenti medici appunto che confermano il genere ehm e non ci devono essere elementi che riteniamo possano interferire con la comprensione diciamo la chiarezza insomma la capacità di dare consenso in in questo senso ecco per per il percorso. Ehm ovviamente sono tutti elementi che poi noi dobbiamo ehm eh sviluppare all'interno di un processo eh che coinvolga attivamente insomma ecco la persona che abbiamo di fronte quindi ecco non è che siamo eh delle persone che devono semplicemente come dire porre un sigillo insomma su quello che le persone invece ci stanno raccontando della propria esperienza di vita ma dobbiamo appunto accompagnarle eh in questo percorso soprattutto informando degli effetti per esempio ecco che la terapia eh può 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 dare eh sulle opzioni per esempio di mh disponibili per per esempio la preservazione dell'affettività eh e quindi ovviamente tutti questi elementi poi devono essere discussi discussi con la persona che abbiamo di fronte. L'età per iniziare in qualche modo un percorso per esempio appunto eh psicologico ehm insomma bene che eh quando si ha il desiderio di voler ehm appunto avere uno spazio di riflessione insomma ecco con una persona eh competente su su questi temi è bene che ci possa essere la possibilità e e direi non c'è in qualche modo rispetto a questo un un età in cui è bene iniziare o non iniziare cioè quando c'è il desiderio eh appunto di intraprendere un po' questo percorso di introspezione insomma di analisi insomma è bene che che ci possa essere questa possibilità. Questo è vero insomma per la per la persona che anche per il contesto familiare quindi eventualmente anche per genitori che possano avere magari dei dubbi rispetto ad alcuni aspetti eh poter interfacciarsi insomma e quindi chiedere anche eh consulenza delle persone appunto formate operatori formati eh su questi temi è poi importante e ha tante ripercussioni insomma anche poi sul benessere della della persona rispetto poi alla possibilità insomma di intraprendere la terapia ormonale sempre ovviamente dopo eh la la valutazione insomma ecco di questi aspetti che eh dicevo e del fatto anche che eh valutiamo come dire che eh l'esperienza di incongruenza di genere è marcata ed è sostenuta nel tempo insomma seguendo poi quelli che sono ehm attualmente criteri diagnostici anche appunto legati a a questo percorso ehm eh è possibile insomma ecco cominciare il percorso di di terapia ormonale questo è l'elemento importante è che ci sia lo scambio appunto di un'equip con un'equip multidisciplinare e quindi con per esempio l'endocrinologo eh di di riferimento rispetto poi allo stadio puberale per esempio per poter eh eventualmente appunto di intraprendere il percorso quindi a partire diciamo così ecco non vorrei dare una una questione come dire di età eh specifica perché poi ci sono insomma anche altri eh aspetti insomma che possono essere presi in considerazione comunque diciamo che sotto i diciotto anni è possibile cominciare a partire diciamo forse dai sedici ecco per essere un po' più prudenti e però ecco possibile cominciare ma tutta una serie poi di aspetti che rimanderei insomma poi magari ecco a ehm colleghi poi medici che possono essere più puntuali su questo eh è possibile insomma ecco cominciare con i percorsi ehm ormonali. Ecco non è il suo ambito di competenza appunto io volevo fare una domanda per quanto più su quel che riguarda gli interventi medico medico chirurgici parlando non solo dei rischi che eh ci sono esistono sappiamo che che esistono che gli effetti collaterali eh possono essere anche importanti insomma però io le chiederei dal punto di vista proprio psicologico quali possono essere i benefici per eh un paziente che affronta anche eh come dire eh l'idea di vita futura e soprattutto soprattutto dal punto di vista psicologico. Eh sì dentro questo percorso no che le 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 cercavo di descrivere insomma anche adesso eh tutti questi elementi insomma ecco devono poter essere approfonditi quindi eh la persona ehm deve essere consapevole delle dei rischi insomma ecco su legati ovviamente la la propria salute fisica ed è un un processo come dire di bilanciamento insomma no tra rischio e eh e al contrario insomma aspetti ehm protettivi no perché l'esperienza per alcune persone non per tutte questo lo tendo sempre appunto a sottolinearlo però per alcune persone l'esperienza di appunto incongruenza di genere e il percepire per esempio disforia corporea eh può essere un elemento appunto molto doloroso e molto ehm impattante per quello che riguarda proprio il benessere e e la salute psicologica e globale e quindi anche il funzionamento insomma globale dell'individuo quindi eh sempre quello come dire l'obiettivo che dobbiamo tenere insomma un po' ecco di equilibrare i rischi e i benefici e quindi quando c'è viene sperimentato appunto una insoddisfazione corporea insomma comunque una disforia corporea importante il poter iniziare il trattamento appunto anche medicalizzato insomma della terapia affermativa eh è un elemento che poi può portare ad un benessere psicologico e quindi a migliorare una qualità di vita eh che è sicuramente insomma un elemento molto molto importante ma è importantissimo ovviamente che la persona ne sia consapevole ovviamente quindi e che in questo percorso appunto venga accompagnata che ci siano controlli eh monitoraggi insomma assolutamente ecco eh continuativi ehm e che poi anche la la famiglia anche i genitori siano appunto al al corrente dei rischi e benefici e e quindi ecco poi si si lavora insieme per cercare ovviamente di trovare la soluzione migliore poi per l'adattamento psicologico insomma e per il benessere e la salute mentale delle persone. Ingancio proprio quello che lei ha appena detto dottoressa e le chiedo cosa succede nel senso come si deve comportare un professionista di fronte per esempio a una una famiglia che eh possa mettere in atto eh comportamenti totalmente di totale opposizione. Come dire la famiglia, la scuola insomma ecco il contesto dei pari possono essere dei luoghi eh di sostegno di accettazione ma al tempo stesso possono anche essere appunto luoghi poi di discriminazione, di stigma insomma appunto di non accettazione questi elementi insomma ci sono. Ehm noi nel per esempio nel nostro lavoro ehm cerchiamo sempre insomma di coinvolgere la la famiglia. Ci sono situazioni come dire mh più ehm accettanti e anche più disponibili diciamo no? Dei di genitori, di famiglie allargate ad esserci anche perché è la famiglia stessa anche eh che intraprende un percorso di transizione insomma quindi ci sono tanti aspetti che possono paure, come dire preoccupazioni eh che è giusto che trovino lo spazio ecco per poter essere accolte ehm ascoltate e eh è anche con appunto un'attenzione, un ascolto empatico anche di quelle che sono ovviamente le preoccupazioni eh genitoriali insomma quindi questo è importante che eh ci sia un ascolto. Ehm però mantenendo ecco bene a mente qual è l'obiettivo eh finale che è il benessere della persona ovviamente ecco ehm con varianza di genere, con incongruenza di genere. Ehm noi proponiamo sempre ecco che parallelamente agli incontri con la persona insomma ci siano anche degli incontri con i genitori e eventualmente quando è possibile dialogare anche con la scuola, l'attenzione per esempio anche che può esserci che è molto importante alla carriera alias eh per esempio quindi eh a lavorare anche con la scuola rispetto a questo, sull'attenzione per esempio all'utilizzare i bagni del genere insomma ecco desiderato e tanti tanti elementi quindi noi siamo disponibili e quando troviamo insomma ecco la possibilità di un confronto diciamo che siamo già un pochino ehm a metà dell'opera. Quando ci sono contesti eh invece mh dove non c'è la possibilità diciamo di agganciare e il genitore e di iniziare a fare un percorso insieme di accettare verso l'accettazione verso appunto un po' la comprensione ehm le le esperienze possono essere molto varie purtroppo possono esserci esperienze anche molto eh negative di persone che per esempio si trovano per esempio ecco fuori fuori casa e e in questo senso i centri per esempio ecco di eh supporto come a Padova il centro spollato per esempio che è stato istituito da poco hanno un grandissimo eh una grandissima importanza e però io credo ecco che se già nei contesti insomma ecco di ehm più allargati si riesce insomma ecco a lavorare ad informare per esempio anche con le scuole ehm è più probabile diciamo ecco forse che accada e che ci possa essere diciamo una piccola apertura su cui poi dopo lavorare con i genitori eh e altrimenti possono assolutamente capitare quelle situazioni lì eh appunto di non accettazione di rifiuto ehm sappiamo però ecco che queste poi portano inevitabilmente poi un carico di ehm eh malessere e che si ripercuote insomma ecco che adesso non so quanto si specifica però esiste uno stress delle minoranze appunto della minoranza di genere ehm che eh ovviamente può portare la persona anche a ehm appunto ehm vivere una profonda depressione disturbi d'ansia eh insomma ecco tutta una serie appunto di di elementi che che ci sono e che sappiamo tra l'altro essere anche molto presenti proprio per gli effetti del del minority stress. Doressa concludo chiedendole se negli anni sono aumentati gli studi specifici sulla diversità di genere negli adolescenti e le chiedo anche quali sono le prospettive future di ricerca. Assolutamente sì e mh un un aspetto secondo me molto importante e quello che forse ecco nelle decadi precedenti si tendeva un pochino a ehm lavorare con gruppi molto ehm disomogenei nel senso no sulla popolazione LGBT plus e i bisogni invece specifici delle delle persone appunto eh delle minoranze di genere delle minoranze sessuali insomma hanno bisogno di essere riconosciute ecco e ehm e attenzionate quindi ehm io credo ecco insomma questo lo lo dice un po' il trend ecco della letteratura che si va sempre più ehm come dire nel microanalitico no per nel cercare in qualche modo di individuare elementi eh specifici di rischio o di protezione legati su sicuramente insomma quantomeno agli aspetti del benessere della salute mentale appunto delle persone ehm e quindi nel eh di come impattano anche alcuni processi eh come dire sociali culturali anche di riconoscimento dei diritti eh sul sul benessere e anche insomma ecco su tutto quello che riguarda un po' il percorso insomma ecco del dell'individuo eh quindi sì e sono aumentate per fortuna e devo dire che in questo eh ricercatrici e ricercatori si sono sempre più ehm insomma specializzati anche nell'attenzionare ehm ehm per esempio ecco eh le 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 varie dimensioni dell'identità sessuale quindi orientamento sessuale eh orientamento sessuale identità di genere e non trattare tutto eh nello stesso modo mescolando che è un errore insomma che molto spesso insomma veniva commesso quindi eh anche chiedere per esempio rispetto al eh genere l'identità di genere o il genere assegnato alla nascita anche semplicemente in una descrittiva ecco del eh del dello studio è già un elemento che permette anche di far emergere ok tutta una serie di 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 elementi che fino a poco tempo fa appunto non erano facilmente ehm estraporabili.